Gioca online, la finanza sequestra in un internet point computer collegati ad una piattaforma non autorizzata. Due agenti di polizia penitenziaria aggrediti alla dogaia, i sindacati, situazione ormai fuori controllo. Alluvione dal 1 luglio, aperto il portale per le richieste di rimborso, a disposizione 66 milioni stanziati dal governo. Classifica sull'indice di vivibilità climatica, Prato terz'ultima in Italia, con temperature sempre più alte. Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato. In primo piano la cronaca e l'intervento della Guardia di Finanza che ha sequestrato 15 computer online agganciati a piattaforme estere di gioco non autorizzate. Il controllo è avvenuto all'interno di un internet point. La Guardia di Finanza ha eseguito un'attività di controllo verso un internet point sospettato di offrire ai propri utenti servizi di accesso a piattaforme di gioco non monitorate dall'Agenzia dei Monopoli e dotato di un sistema di videosorveglianza irregolare per monitorare gli accessi e permettere al gestore di bloccare dal remoto le connessioni ai siti di gioco. Una volta all'interno del locale aperto al pubblico, i militari hanno documentato con foto e video lo stato di connessione dei pc installati, appurando che gli apparecchi erano collegati ad un server centrale dal quale a seguito di pagamento di corrispettivi mediante POS veniva abilitata la navigazione online senza restrizioni. I finanziari hanno quindi scollegato e sequestrato tutti i 15 pc presenti nel locale per permettere ai tecnici qualificati della SOGEI di effettuare le perizie necessarie ai fini dell'accertamento della relativa violazione. La norma in materia prevede sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna delle apparecchiature che attraverso la connessione telematica consente ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online. Ancora cronaca, due violente aggressioni si sono consumate ieri nel carcere di Prato ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. Ne danno notizia le organizzazioni sindacali SAP, Sinappe, UIL, USP e CGL. I due agenti coinvolti hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso con prognosi di sette giorni per entrambi. Le aggressioni, riferiscono i sindacati, sono venute all'interno del reparto di media sicurezza, mese in atto da detenuti di origine nordafricana collocati in sezione a regime aperto. In un caso un detenuto avrebbe tentato di strangolare un agente di Polizia Penitenziaria senza alcun motivo apparente. Solo l'intervento di altri poliziotti richiamati dall'attivazione dell'allarme sonoro di emergenza ha evitato conseguenze peggiori. L'altra aggressione si è consumata i danni di uno dei responsabili del reparto che si era opposto ad un detenuto che ha tentato di allontanarsi senza motivo. Da mesi i sindacati denunciano la situazione fuori controllo in cui versa la dogaia. Cambiamo argomento e parliamo dell'alluvione del 2 novembre scorso perché dal prossimo 1 luglio sarà aperto il portale per la rendicontazione dei danni subiti dall'alluvione. Cittadini e imprese potranno così inserire fatture e spese sostenute e avere accesso ai rimborsi grazie ai 66 milioni di euro stanziati dal governo. Dopo lo stanziamento da parte del governo di 66 milioni di euro a sostegno della popolazione colpita dall'alluvione dello scorso novembre, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, in qualità di commissario, ha annunciato che dal 1 luglio sul sito della regione aprirà il portale per la procedura di rendicontazione in cui i cittadini e imprese potranno inserire fatture e spese sostenute e avere così accesso ai rimborsi previsti dalle disposizioni nazionali fino a 5 mila euro per le famiglie e fino a 20 mila euro per le imprese colpite dall'alluvione. Nello specifico, chi ha richieste di rimborso superiori agli 8 mila euro può richiedere un anticipo di 2.500 euro liquidabili già prima dell'estate. Intanto la regione fa sapere che sta concludendo positivamente le richieste di contributo ai cittadini colpiti dall'alluvione. La procedura di erogazione dei 25 milioni di contributi stanziati immediatamente dopo l'alluvione sta andando a buon fine con quasi 17 milioni già erogati e 3.723.000 euro in fase di pagamento questa settimana. Ad oggi sono poi 761 le richieste in fase di istruttoria, 790 le persone che ancora non hanno comunicato l'Iban necessario per procedere al pagamento. Gianni nel fare il punto sui sostegni si è soffermato anche sugli interventi strutturali post alluvione auspicando che anche in questo caso il governo si attivi con una cifra che potrebbe essere di 300 milioni di euro a fronte del piano da oltre un miliardo di interventi inviato dalla regione al governo e sul quale ad oggi non c'è evidenza. Sulle somme urgenze il governo ha riconosciuto 122 milioni a fronte di una richiesta di 162 milioni, significa che mancano 40 milioni che ricadranno in parte sui comuni già duramente colpiti. Gianni ha poi annunciato anche una serie di interventi a sostegno delle imprese alluvionate, fra questi anche un bando di investimenti per 5,9 milioni di euro. E l'alluvione ha avuto riflessi anche per quanto riguarda la classifica sull'indice di vivibilità climatica. Nel 2023 Prato è risultata terz'ultima in Italia. Nella nostra città peraltro fa sempre più caldo, 28 i giorni in cui la temperatura massima ha superato i 35 gradi. Prato è terz'ultima in Italia per indice di vivibilità climatica. È quello che emerge dal dossier realizzato dal Corriere della Sera, il Meteo.it. Numerosi parametri presi in esame, riferiti a 108 capoluoghi di provincia italiani. Indice di calore, notti tropicali, soleggiamento, ondate di calore, siccità, caldo estremo, escursione termica, giorni freddi, giorni di gelo, nebbia, nuvolosità diurna, comfort per l'umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia, pioggia intensa ed eventi estremi. L'analisi parte dal 2000 e fa riferimento agli ultimi 24 anni. Già nel 2022 Prato era quart'ultima, nel 2023 peggio della nostra città fanno solo Firenze e Terni. Prendendo in esame alcuni dati riguardo dal caldo estremo, nel 2023 sono stati 28 i giorni in cui la temperatura ha superato i 35 gradi. Solo altre tre città hanno avuto parametri superiori. 104 giorni con umidità nell'arco dell'intera giornata tra il 40 e il 75%. La nostra città è tra le peggiori anche per ondate di calore, anche se nel 2023 sono state inferiori al 2022. Cala il numero delle notti tropicali, ovvero quelle con temperatura minima uguale o superiore ai 20 gradi, che sono state 71 rispetto alle 100 del 2022. Quanto alle piogge intense Prato è ventesima, con 15 giorni in cui le precipitazioni hanno superato i 20 mm nelle 24 ore, ma di contra aumentano anche i giorni siccitosi. In compenso non c'è stato nessun giorno con temperatura massima inferiore ai 3 gradi, costante degli ultimi 4 anni. In calo anche ai giorni annui, con temperatura minima inferiore allo zero, che sono stati 20, 9 e meno rispetto al 2022. Crescono i giorni nebbiosi, in netto aumento rispetto al 2021. Uno solo è l'evento estremo segnalato, anche se particolarmente significativo, ovviamente l'alluvione del 2 novembre. Per la pagina della cultura e degli spettacoli ci spostiamo a Poggio a Caiano, dove è stato presentato il programma del cartellone degli eventi estivi. Cinema all'aperto, torneo dei rioni, Poggio in vetrina, gli appuntamenti musicali del Festival delle Colline e altro ancora. Il cartellone degli eventi estivi di Poggio a Caiano, con tanti appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. È un programma molto ricco, molto vasto, che spazierà dalla cultura allo sport, al divertimento. Quindi ci saranno un sacco di opportunità per la sera, per il tempo libero. Verrà inaugurata la 45esima edizione del Festival delle Colline. Quest'anno ci sarà un'assoluta novità, in quanto ci saranno ben due tappe nella nostra villa mediscia di Poggio a Caiano. Ci sarà anche il cinema all'aperto, sarà fatto nell'oasi apistica. In previsione di Ferragosto ci sarà la tradizionale cocomerata e poi chiaramente a settembre l'assedio alla villa. Tra le iniziative, il 21 e il 22 giugno, nella Sala della Giostra, appoggio in concerto. Il 22 giugno, alle 10.30, alle Scuderie Medici, la presentazione del libro Fotografie 1978 di Sara Cordella. Il 14 luglio, anniversario della nascita del Comune, sfilata e concerto della Filarmonica Verdi. Da non perdere poi l'appuntamento con il Torneo dei Rioni, fino al 19 luglio, in programma gare di calcio, calciacinque, ciclismo, pesca, podismo e freccette. Viene riproposto un karaoke dei rioni, cioè rioni in lo e in musica, in cui ogni rione partecipa con tre cantanti amatoriali rionali, con tre brani in straniero, italiano e a scelta. Un'altra novità per quanto concerne i ciclismi, il percorso del ciclismo verrà fatto lì nella zona del centro commerciale naturale, nella zona Candeli, il 4 di luglio. Torna poi Poggio in vetrina, con i negozi aperti il giovedì sera fino al 18 luglio e tante iniziative collaterali. Le novità di quest'anno principali sono il ritorno alla passeggiata inogastronomica, che è un evento molto importante, che rende vivo il paese, che convolge attività locali e che si spera porti un movimento all'interno di Poggio Accaiano. E la selezione regionale di Miss Italia, l'11 luglio, un evento che spero porti appunto movimento all'appoggio Accaiano e che porti un plus a tutto il commercio. L'Eno Gastronomia adesso ci porta ad Artimino, dove tornano i tramonti di vini, appuntamento domani e sabato in piazza San Carlo, per degustare le migliori espressioni vitivenicole del territorio. Degustare i migliori vini di OCG di Carmignano, accompagnati da prodotti gastronomici di alta qualità della provincia di Prato, è l'obiettivo di Tramonti di Vini, la manifestazione che torna ad ingresso gratuito ad Artimino, in piazza San Carlo, il 21 e 22 giugno prossimi, dalle 19 alle 24. L'evento è ingresso libero, organizzato dalla Proloquo e dal comune di Carmignano, insieme a Confcommercio, Pistoia e Prato. Quest'anno Tramonti di Vini è inserito all'interno della valorizzazione promozionale di Toscana Arcobaleno d'estate. Convintamente, insieme anche a Vetrina Toscana, appoggiamo come Confcommercio Pistoia e Prato l'iniziativa di Tramonti di Vino, appunto seconda edizione, che sarà sicuramente utile per quella che è la valorizzazione, anche in questo periodo estivo, dello splendido territorio di Carmignano. L'evento si articolerà attraverso la proposta di quattro varietà di vini provenienti da cantine locali e gestiti dalla Proloquo. Si tratta di un bianco, di un rosso, di un barco e di un rosato. Per l'occasione verrà distribuita una taschina di stoffa insieme ad un calice al prezzo di 5 euro. I calici da degustare sotto la guida dell'Associazione Italiana Sommelier avranno prezzi variabili a seconda dell'etichetta. La proposta gastronomica sarà curata da tre ristoratori locali. Ciascuna delle due serate sarà accompagnata da DJ7, mentre in parallelo resterà aperto il Museo archeologico e in piazza si svolgerà la mostra Io Creo, mercato di arte e ingegno femminile. Si mangia ovviamente all'aperto nella piazza e si può arrivare a qualsiasi orario, anche dopo cena, per degustarsi un bicchiere con qualche dolcetto. Quindi non è obbligatorio cenare, ma si può intervenire anche dopo. Gustare naturalmente il buonissimo vino di Carmignano, ormai famoso in tutto il mondo, ma conoscere anche la storia, grazie al nostro museo, che sarà aperto, sarà fruibile e che vedrà anche delle iniziative per bambini, e poi conoscere anche l'arte contemporanea, grazie alla presenza di artisti che esporranno le loro proprie opere. È il momento delle previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Un saluto, ben trovati. Poca variazione, ancora una giornata caratterizzata da cielo velato, lattiginoso complice, appunto, l'anticiclone africano, che convoglia aria decisamente calda sulla nostra penisola, ricca anche di polveri che appunto si manifestano con un cielo, come detto, velato. Oggi arriva anche un po' più di umidità, quindi la nuvolosità sarà anche più compatta, soprattutto sulle province settentrionali. Lo vediamo meglio nella nostra grafica, in cui abbiamo indicato appunto degli addensamenti un po' più compatti sulle province più settentrionali. A ridossa dei rilievi non si esclude anche qualche locale e debole precipitazione. Per il resto della regione un cielo prevalentemente velato. I venti per oggi nel pomeriggio tendenzialmente deboli, il mare poco mosso, le temperature decisamente elevate, con valori fino a 35, localmente anche 36 gradi, accompagnate anche da tassi di umidità piuttosto elevate, quindi nel complesso una giornata decisamente affosa. La giornata di domani poi vedrà poche variazioni in mattinata, ancora un cielo nuvoloso, soprattutto sulle province settentrionali, in mattinata ancora temperature elevate, superiori ai venti, ventidue gradi un po' su tutta la regione, ma nel pomeriggio arrivano venti occidentali che cominciano a spazzar via le nuvole e gradevolmente riportano le temperature su valori più consoni per il periodo, attorno ai 30-32 gradi. La giornata di sabato poi vedrà un sole prevalente su tutta la regione con temperature nella norma che nel pomeriggio non supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. Siamo in conclusione, il telegiornale torna come sempre stasera alle 20.30, vi lasciamo adesso ad una nuova puntata del telefilm Le avventure della famiglia Robinson, che potrete rivedere anche in replica alle ore 22.30. A voi tutte e tutti, grazie dell'attenzione e buon pomeriggio. Grazie.